L'Italia ce la può fare, magari ripartendo anche da Reggio. Si apre così la breve visita regina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Luca Lotti e Reggio Calabria. Questa mattina il sopralluogo sul cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia, da anni bloccato a causa del fallimento della ditta appaltatrice, la Bentini, anche a causa delle pressioni mafiose. I fondi del Cipe ci sono, ha dichiarato Lotti, e quest'opera non resterà incompiuta. Ci hanno raccontato per anni che le opere non venivano completate, ha detto ancora il sottosegretario, ma noi ci crediamo, crediamo che l'Italia possa ripartire anche dal sud e da opere come questa. Una grande opera che deve vedere finalmente la conclusione e il termine. Noi come governo ci siamo impegnati molto perché i finanziamenti Cipe per concludere quest'opera sono arrivati. ci auguriamo che possano iniziare presto i lavori e finalmente anche questa incompiuta si possa portare a termine. Oggi è un giorno che testimonia la presenza del governo qui, serve a testimoniare che un pezzo d'Italia ce la fa, un pezzo d'Italia può e vuole veramente ripartire. Francesco Creazzo per la Cineus 24.